È una comunità sotto sciocca e incredula quella di Teolo, colta di sorpresa dalla notizia della morte di Leida, fulminata da una grave forma di meningite batterica causata da un cosiddetto pneumococco, una famiglia che si era trasferita a Teolo sui Colleganei tre anni fa. Il cuoricino della bimba, a cinque mesi, si è fermato il 2 novembre dopo qualche giorno di ricovero. Siamo tra lo scosso e il frastornato perché queste sono tragedie che quando ti colpiscono lasciano il segno. I genitori hanno comunque trovato la forza di donare gli organi per salvare altre giovani vite, in particolare due nel Padovano e due nel Torinese. Io non ho ricevuto nessuna comunicazione dagli enti, dall'USL. Come vi dicevo prima, i genitori hanno anche un'altra figlia che frequenta un asilo qui del territorio. Gli organi della piccola Leida sono stati donati, quindi mi viene da pensare che probabilmente non c'è questo pericolo sanitario che viene paventato. Il sindaco aveva incontrato la famiglia al momento della registrazione della nascita di Leida all'anagrafe, quando era stata donata, come a tutti i nuovi nati, una torta di pannolini. Non ci sono molte parole per descrivere la situazione che stiamo vivendo in questo momento, che la comunità sta vivendo. Purtroppo una grande, grande, grande tragedia. Grazie.